E anche questo video sarà accompagnato dalla suave melodia del mio vicino che sta facendo dei lavori e che quindi intratterrà il nostro video con martelli, trapani e quant'altro. Oggi parliamo di matrimoni tra preti, frati, suore e rapporti extraconiugali tra preti, frati e suore. YouTube questo video non è adatto ai bambini. Parliamo di storia e soprattutto lo facciamo partendo da un qualcosa che viene abbondantemente studiato a scuola, ovvero il Decameron di Giovanni Boccaccio. Il Decameron di Boccaccio è un'opera che racconta la vita quotidiana, è un'opera che racconta un medioevo vero, reale, vissuto, un medioevo che Boccaccio conosce bene perché è il medioevo che lui frequenta, è il mondo che lui frequenta e si connota di tante piccole storie, tanti piccoli aneddoti che sono in parte opera di pura fantasia dell'autore, che però sono ambientati in quel mondo che lui conosce e che molto probabilmente attingono ad una base di verità. Boccaccio frequenta commenti, frequenta monasteri, frequenta la corte papale, quindi è molto probabile che lui di quel che ci racconta ne abbia avuto in qualche modo un'esperienza reale. Quello che ci viene raccontato nella novella numero 4 della giornata numero 3 che abbiamo letto martedì sera in live su Twitch e vi invito a seguire le live perché leggiamo di queste cose abbastanza surreali e assurde che ci danno un'idea di medioevo totalmente diverso da quello che siamo abituati a conoscere. In live abbiamo letto questa novella che racconta di frate Puccio, un frate che è sposato, che ha una moglie, una moglie che ha dei bisogni, che però il frate non vuole soddisfare e rompe nella vicenda, nella quotidianità della vita di questa coppia, Don Felice, un altro frate che si interessa alle vicende, alle sofferenze della donna e deciderà di alleviare, diciamo così, le sue pene e nel farlo dovrà trovare un modo per allontanare frate Puccio dal letto coniugale. Il come ci riuscirà viene raccontato nella novella, l'abbiamo letto in live, a noi qui in questa sede non interessa, a noi in questa sede è la dinamica di fondo che interessa e la dinamica di fondo è di un frate sposato, un frate che aveva una moglie, un frate che con quella moglie poteva fare praticamente quello che fa qualsiasi uomo con la moglie e ci siamo tutti un po' sorpresi nel leggere questa cosa, nel leggere di un frate che era sposato e al quale poi a un certo punto viene detto nel far penitenza non dovrai toccare le altre donne e neanche tua moglie. E il fatto che sia stato necessario specificare non dover toccare le altre donne e tua moglie ci dà un'ulteriore indicazione. Ci dà un'indicazione che siamo in un mondo in cui la sessualità è vista in modo molto libero, molto aperto e in cui sì, i vincoli matrimoniali ci sono, esistono, ma non è che siano proprio rispettati sempre alla lettera, anzi più o meno tutti, compresi un frate, probabilmente avevano un amante, ci si sposava con chi ci si doveva sposare, ma poi si viveva la propria sessualità con chi si voleva. E siamo in un mondo, siamo nel XIV secolo, prima metà del XIV secolo, che è molto diverso da quello che siamo abituati ad immaginare come Medioevo. L'abbiamo già visto con la lettera di Bianca Maria Visconti a Francesco Sforza. Il Medioevo è molto più vivo di quello che possiamo immaginare e di quello che siamo soliti immaginare. Quello che è il nostro standard, il nostro canemone di Medioevo, inizia ad affermarsi effettivamente dopo Boccaccio, negli anni successivi alla vita di Boccaccio, sul finire del XIV e durante tutto il XV secolo, si iniziano ad affermare in maniera più netta alcuni precetti, alcune regole che vietavano comportamenti inappropriati, vietavano al marito di andare con altre donne, vietavano alla donna di andare con altri uomini, vietavano ai preti, ai frati, alle moneche di andare con uomini e donne, insomma, venivano vietate un po' queste cose. In precedenza, però, non è che non ci fossero leggi o regole, anzi, di regole ce n'erano abbastanza e per quanto riguarda l'ordine sacerdotale, abbiamo scoperto che il divieto di matrimonio è un qualcosa di abbastanza recente. Sebbene storicamente presente, non negli ambienti teologici fin dal III secolo, in realtà nel diritto canonico fa la prima apparizione soltanto nel XII secolo. Per essere più precisi, mi ero segnato qui la data, per essere più precisi nel 1139, tra il 4 e l'11 aprile. Direte voi, perché questa data così precisa? Beh, perché in questo momento, tra il 4 e l'11 aprile del 1139, si tiene un concilio ecumenico, un concilio totale, no, di tutta l'ecumene, di tutto il mondo cristiano, sotto la presidenza di Papa Innocenzo II, ed è un concilio in cui si affermano diversi principi. Il primo principio è che i vescovi dovevano iniziare un po' a moderare le proprie spese, o almeno questo era il diktat papale. I vescovi dovevano iniziare a comportarsi come dei vescovi e non come dei principi. Dovevano iniziare ad abbandonare le ricchezze, dovevano seguire più l'esempio dei frati, tra virgolette, che in quel momento non ce n'erano ancora, dovevano andare più in direzione della povertà e meno in direzione della ricerca del potere. Il metro, il metro, sì, il matrimonio, secondo principio, il matrimonio di preti e dei religiosi era dichiarato vano. Questo significa che fino a quel momento i preti potevano sposarsi, c'erano preti sposati che avevano una famiglia, che avevano dei figli. Da questo momento viene, tra virgolette, non solo considerato illecito, ma proprio vietato. La differenza tra illecito e vietato è importante perché nel Medioevo c'erano tantissime cose illecite. Per il fatto che fossero illecite, non fregarla veramente a nessuno. Sì, ok, non posso farlo. Se lo faccio succede qualcosa? No, ok, allora lo faccio lo stesso. Questo è illecito, immorale, tra virgolette, no? Sì, ok, però poi non ci sono conseguenze effettive e pratiche. diventando una regge, un divieto reale del diritto ecumenico, ecco che le cose iniziano a cambiare. Si dice che il matrimonio è vietato, quindi non può più sposarsi e tutti i matrimoni contratti fino a quel momento vengono dichiarati nulle. Quindi i preti che erano già sposati non sono più sposati, vengono annullati tantissimi matrimoni, lo stesso per i vescovi, per i cardinaldi, per i papi e per tutti gli altri. Viene condannato all'esura, sai tante altre cose che avvengono fuori da questo concilio, però non ci interessano più di tante. A noi interessava, interessava la questione del matrimonio, interessava scoprire che prima del 1130, praticamente, i papi, prima del 1139, i preti erano sposati, potevano sposarsi, potevano avere dei figli, sebbene fosse considerato immorale, ma il fatto che fosse immorale, non era assolutamente discriminante, come ci viene certificato all'esistenza di alcuni vescovi che avevano dei nipoti a cui volevano particolarmente bene, anche perché gli erano figli, come abbiamo dei vescovi che hanno una famiglia, come abbiamo dei papi che hanno dei figli. I papi che hanno dei figli ne incontriamo anche in epoche successive, ne incontriamo anche dopo il concilio latenanense. Questo perché, come dicevo, si vengono istituite queste regole, ma ancora non vengono rispettate alla lettera. C'è molta libertà di interpretazione, c'è poco interesse a rispettare anche quelle leggi, e soprattutto c'è poco interesse a far rispettare alcune leggi, soprattutto quando vietavano qualcosa che un po' piaceva fare a tutti, quindi se mi viene vietato di dormire con una donna per un prete, io, sacerdote, giuridico, giurista della chiesa, che dormo con una donna, mi sento leggermente in difficoltà a dover condannare te sacerdote che dormi con una donna, quindi, niente, quindi anche se lo so non intervengo, intervengo solo quando non posso fare altrimenti. E questa è la prassi che si afferma tra il dodicesimo e il quattordicesimo barra quindicesimo secolo. Nel quindicesimo secolo le cose iniziano a cambiare, di scandali ci sono stati tanti, c'è uno scontro in atto molto forte tra il mondo cristiano, tra il mondo ecclesiastico e il mondo aristocratico, sono di fatto due aristocrazie che viaggiano in parallelo con delle regole leggermente diverse, e quindi la chiesa semplicemente cerca di imporsi un'immagine di maggior vigore morale, di maggior virtù dal punto di vista morale, e quindi inizia a condannare, non solo a parole, ma inizia anche ad applicare la legge, inizia ad applicare le condanne previste e per determinate violazioni, inizia a perseguire la sodomia, dove per sodomia, che era vietata anche qui dal dodicesimo secolo, si intende tutta una serie di pratiche particolari, si iniziano a perseguire le unioni tra sacerdoti, monache, frati, uomini e donne, e indipendentemente poi da tutto il resto, si inizia a inseguire queste dinamiche e condannare queste dinamiche. Siamo negli anni in cui l'eccesso di zelo di alcuni predicatori viene visto come un esempio di grande virtù, siamo in anni in cui uomini come Savonarola vengono inizialmente visti come dei veri, cristiani, a differenza degli ecclesiastici, degli alti prelati, degli abbati, dei monachi, che si passano le loro giornate in preghiera, in povertà, ma poi i frati vivono nel lusso, i monaci vivono nel lusso, i preti, i vescovi sono ricchi e quant'altro, si comportano come dei nobili e tutto quello che ne consegue, hanno una vita sessuale, e poi ci sono questi individui, esseri individuali, proprio monaci, predicanti, mendicanti, che vanno aggirando per le strade, per le città, che predicano, abbiamo a che fare con questi ordini predicatori, che vivono realmente, no, i vari voti di obbedienza, di povertà e di celibato. Per quanto riguarda i voti di obbedienza, al povertà e celibato, va spesa una nota, questi sono volontari, almeno per molto tempo, nel senso che i primi ordini monastici avevano soltanto il voto di povertà, poi negli anni successivi, nel tredicesimo secolo, iniziano ad abbracciare anche il voto di obbedienza, ovviamente, e il voto di castità. Però sono sempre scelte individuali, come vediamo, nel quattordicesimo secolo, anche se eri sposato, potevi essere frate, quindi il voto di castità non è vincolante, lui, anzi, in quanto uomo sposato, aveva dei doveri, nei confronti della moglie, che andavano in conflitto pagano il voto di castità. La moglie poteva chiedere l'annullamento del matrimonio o se il marito faceva voto di castità. Diventano vincolanti solo nel quindicesimo secolo, vincolanti da un certo punto di vista, però in realtà, essendo le confraternite, in qualche modo comunque, scollegati dall'ambito ecclesiastico, diciamo che se avevamo a che fare con un monaco, che era solo un monaco, con un frate che era frate, non aveva alcun vincolo, non aveva alcun obbligo, era semplicemente un uomo che indossava un saio e che era molto religioso, o almeno diceva di essere molto religioso. Diverso era il discorso quando il monaco, quando il frate, era anche un sacerdote. In quel caso, era il fatto di essere sacerdote che gli imponeva alcuni vincoli, e non il fatto di essere un frate. Stesso discorso per le suore, dove però non c'è la presenza del ruolo di sacerdote, per le suore quindi, si trova in una condizione a metà tra il frate, tra il monaco e il sacerdote. Per entrare in una confraternita monacale, da un certo momento in poi, sarà imposto, tra virgoletti, anche il voto del celibato, che però è comunque una scelta vincolante. Io posso vestire gli abiti della suora, è abbastanza strano se io vesto gli abiti della suora, però posso farlo, anche senza prestare alcun voto di castità, di povertà, di obbedienza. Se lo faccio, ovviamente, sono apprezzato maggiormente, se non lo faccio, non cambia assolutamente nulla, perché gli ordini monacali sono scelte tra virgolette individuali e bene o male chiunque poteva costituire il proprio ordine con Blackjack e squillo di lusso. Spero che questo video sia stato interessante, vi invito a seguire le live martedì e venerdì sera dalle 21 su Twitch, chiacchieriamo di queste cose, leggiamo cose casuali e estraiamo dei ragionamenti che poi io produco in forma video e porto qui su YouTube e se ci riesco, anche come podcast su Spotify. Vi invito inoltre a seguire tutti i social network che trovate linkati in descrizione e già che siete nel box informazioni, cliccate anche sulla pagina Patreon dove potrete, beh, accedere in anticipo a tutti i contenuti video e c'è già pronta una miniserie in tre episodi che verrà pubblicata da gennaio. Vi ringrazio ancora per aver guardato e vi do appuntamento al prossimo video.